Claudio Cleri, Andrea Giocondo, a reale esordio per quanto riguarda la Fuzzalacademi, andate a giocare lontano, molto lontano, andate a giocare sul campo della spessa Foggio Fidoni, siete pronti a questo esordio? Sì, prontissimi, andiamo subito in un campo molto ostico. Il Fidoni è una bella squadra, sicuramente ci tratta del filo da torcere come l'anno scorso. Sappiamo due brasiliani che sta inserendo in questa squadra di C1, per cui dovreste cominciare al meglio questo campionato. Quando è andato anche il pre-campionato con l'amichevole, con l'inserimento di tanti ragazzi nuovi? Il pre-campionato è bene, la squadra è giovane, la gioventù ci aiuta quest'anno, diciamo che la squadra è stata svecchiata, manca un po' di esperienza perché diciamo che in C1 siamo rimasti in 4-5 dell'anno scorso, abbiamo ottime qualità, possiamo far bene. E' uno dei nuovi, Andrea Giocondo, eccolo qua, sei pronto a questa avventura, cominciare questo campionato? Prontissimo, affronto a questa nuova esperienza, nuova società, con nuovi compagni, un nuovo allenatore, ci stiamo preparando al meglio per questa stagione. L'affronteremo naturalmente nel migliore dei modi. E se sia per te che anche gli altri ragazzi che conosci bene, come Tersini, come Morio, è un segno fondamentale per quanto è arrivata questa stagione, in cui volete cercare di raggiungere i massimi risultati. Noi rimaniamo nel nostro, stiamo facendo una buona preparazione, abbiamo fatto, ci stiamo allenando nel migliore dei modi, ripeto abbiamo un allenatore che ci sta preparando nel miglior modo possibile per affrontare queste gare, soprattutto per noi nuovi che, soprattutto come ha detto il mio compagno prima, non abbiamo molte esperienze rispetto a loro, però non temiamo questa cosa. Claudio, ti abbiamo strappato all'allenamento con i ragazzi, è stato chiamato con i ragazzi più piccoli, come sta andando, come stanno crescendo? Stanno bene, soprattutto gli allenatori sono bravi, speriamo che ci sarà un bel ricambio generazionale, ecco.